Ciao a tutti, sono Paola, ho 21 anni, sono di Roma e sono diplomata al Liceo Linguistico Europeo e attualmente frequento il corso di laurea triennale in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi di Roma 3, all'interno della quale faccio parte dell'Associazione Studentesca, ricomincio dagli studenti con la quale affrontiamo tematiche riguardanti le politiche internazionali, l'integrazione, l'ambiente e le politiche sociali. Vorrei poter prendere parte a Scuola di Politiche, poiché credo fortemente che sia un'opportunità unica con la quale potrei arricchire il mio bagaglio culturale e personale, poiché il taglio metodologico e interdisciplinare di Scuola di Politiche mi permetterebbe di acquisire una differente chiave di lettura non solo per capire e comprendere al meglio le nuove politiche nazionali e internazionali del nostro tempo, ma anche per capire e affrontare al meglio le sfide che ci si pongono ad oggi, sfide che sono geopolitiche europee, culturali, sociali, di integrazione e sfide legate anche all'istruzione. Grazie per l'attenzione.